Oristano un grande mare blu con molti pesci. C'è uno, più grande degli altri, giallo e arancione, che si trova proprio alla porta del dipartimento. Il grande acquario cromatico realizzato da un mano invisibile è pronto. L'ultimo lavoro del pozzo e l'artista noto ha trasformato la sala apparizione del dipartimento. Pediatria dell'ospedale San Martino Oristano. Diretto dalla dottoressa Enrica Paderi. Questa mattina il saluto al dipartimento e la presentazione dell'affascinante acquario al personale sanitario. Ma anche a un gruppo di bambini. Accompagnati dai loro genitori. L'iniziativa è stata supportata Patrick Abbate. Leader del gruppo Patrick Friends. Da sua moglie Stli Abbate dall'Associazione Belle Women Oristano. Presieduta Maria Cadettu e fa parte un progetto più ampio la creazione un percorso visivo per il. Senso visivo per facilitare l'accoglienza giovani pazienti nello stesso reparto pediatrico quindi. Rendere l'arrivo in ospedale meno traumatico i bambini. I volti e l'aspetto dei bambini sono stati incantati nell'ammirare l'acquario cromatico. Sembra essere nel mezzo del mare. Hanno commentato i piccoli. Che hanno poi fatto alcune domande a mano invisibile. Porto via ricordo. Che non è un ricordo fatto di immagini. Nonostante le immagini siano il mio pane quotidiano ha detto l'artista non ho il mio design. Preferito e non mi sono mai piaciuti i podi. Né una vita privata in quella artistica. Ma sono molto soddisfatto tecnico. Ma soprattutto termini esperienziali. Perché mi hai adottato per sette giorni della mia vita. Tu dal dipartimento e hai facilitato questo lavoro modo incredibile. La tua cortesia e l'ospitalità hanno contribuito. A synergy. Al risultato finale. Che ora vediamo. Ed è questa esperienza di vita. Che porterò con me. L'esperienza aveva anche dialoghi e contatti quotidiani con i giovani pazienti nel reparto. I colori ora abbraggeranno lo spirito di terrore dei bambini. Legati all'ambiente ospedaliero e lo capovolgono. Una prospettiva di speranza per i più piccoli. Ha aggiunto mano invisibile. Più che soddisfatto la primaria Enrica Paderi. È stata una bella settimana di reciproco arricchimento. Con una persona splendida. Vi indica la maschera c'è una persona fantastica. Ora questo dipartimento è davvero molto più colorato e sarà per tutti i bambini. Chi verrà a trovarci?